ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nella angolo craft qui nell'angolo di claudio abbiamo iniziato l'episodio riparando il nostro gimbrò di ferro perché è tanta roba allora quest'oggi tredicesimo episodio la volta scorsa abbiamo esplorato un pochettino trovando altri pillager e due template che però non proveremo io sta casa l'avevo esplorata mi sembra proprio di no vediamo due diamantini un po' di ferro e il mettino di ferro che buttalo via visto che io praticamente ho tutta l'armatura spappolata almeno diamo una parvenza e l'altro lo lasciamo qua perché sono un po' pieno ok e questi pure allora oggi cosa facciamo mi sono avvicinato da queste parti perché vi avevo accennato che volevo fare una torretta torretta che faremo ma questo è pure spappolato mamma mia ok meno male che ho trovato un po' di ferro volevo fare la torretta esattamente qua senza stravolgere troppo però la natura diciamo del terreno quindi mettiamo questa chest qui poi mi sono portato pure il lettino ok vedete sono bravo ragazzi mettiamo un po' di torcette per illuminare qua la zona ho fatto un po' di blocchi e mi sono portato anche il fedelissimo stone cutter che oramai c'è che fatene privi vorrei fare la base praticamente scura con questi pochissimi blocchi che ho ma dovrebbero bastarmi in realtà e volevo farla da questo lato però ripeto non voglio stravolgere aia la situazione fatemi risalire dannazione allora qui dobbiamo fare una base quindi così poi sfruttiamo il fatto che di qua fa così è che non vorrei spregare troppi blocchi quindi assecondiamo questa situazione ok e poi saliamo di qua perché base appunto scura mista al terreno poco importa ok base così e la facciamo di 1 2 3 e 4 poi vabbè mettiamo un po' di terra dico alla fin fine anche perché di questi blocchi come vedete non è che ne ho chissà quanti vero che si possono rifare per l'amor del cielo perché questo comunque era qualcosa di scuro però mi sembra un po' strettina eh mi sembra un po' tanto strettina quindi facciamo così e qua ci mettiamo una torcina e andiamo a dormire perché si è fatta notte e qua gli stronzoni non mancano intanto però come larghezza mi sembrava mi sembrava corretta ah e vabbè certo io devo levare 1 e 2 e spostare quelli anche perché ho altri due blocchi giusti giusti ottimo quindi dobbiamo chiuderlo così 1 2 e là me ne mancherebbe 1 però possiamo iniziare a salire poi con l'altro e qua si mettiamoci un po' di terra perché sennò c'è sospesa in aria non mi piace padre non mi venga addosso grazie detta così è un po' brutta me ne rendo conto e così almeno ha senso ok risaliamo sempre di qua padre non stia a mollo nel senso mamma mia poi dice ah mancano villager grazie al cacchio che mancano villager potremmo farci un ingressino da sotto assolutamente sì però da dove questo allora lo leviamo e questo pure questo era un creeper no è l'acqua della pioggia non possiamo dormire tanta roba allora un ingressino dal basso io direi a questo punto da qua quindi 1 2 3 4 facciamo doppio ingresso per questa torre sì comunque ci sono le torce che si spengono con la con la pioggia non me ne ero mai reso conto ok e facciamo la seguente quindi questo blocco posso tranquillamente recuperarmelo perché facciamo che la base a questo punto è questa ok ok prende forma prende forma ragazzi ok ed è di 2 e questi a questo punto li facciamo con questi non volevo fare assolutamente questo però sì potrei farlo a giro così così facciamo un misto tra quelli vabbè qua dobbiamo metterci le porte quindi inutile che ci spreco blocchi sì facciamo un misto dai concepiamo una finestra che dite sì concepiamo una finestrella così abbiamo anche un punto luce da qua e eventuali scheletri ci possono anche sparare come cosa giusta fondamentalmente qua direi di no perché viene stretto ok e ok anche se volendo si potrebbe fare però sti cazzi 1 e 2 1 e 2 ok brutto di avere la pala in mano è proprio quello da questo lato replichiamo una finestra ma si replichiamo una finestra così abbiamo la doppia vista non è assolutamente male poi magari ci mettiamo del vetro così evitiamo che entrano soggetti poco desiderabili per ora ci metterò delle fence che vi dirò ti devo dire vi devo dire non è affatto male allora io mi sono dimenticato a farmi una crafting che in ogni cantiere dovrebbe esserci ma la aggiungiamo noi qual è il problema la buttiamo qui così mi faccio le porte con questo poco legno che ho perché c'è io ho la fissazione con le porte queste scure mi serve il picconcino ok e vogliamo farci il pavimento direttamente assolutamente sì il pavimento questo giro con cosa lo posso fare quello scuro no mettiamoci la legna sì la legna potrebbe essere un'idea mi piace ma insomma vi dirò pensavo meglio questo lo dobbiamo levare in favore non della porta ovviamente ma di questo e qua direi di completare l'opera ok dai prende forma qua lasciamo però con la terra molto più carino ecco coloso allora fatemi svuotare un attimino il superfluo le mele vabbè il ferro lo mettiamo pure qua ok mi fai dormire no quindi torre che ovviamente ora deve salire ok la che dite ci mettiamo un blocchetto di questo no lo lasciamo così un po rovinata un po alla cacchio per salire per salire come mi organizzo innanzitutto facciamo così ok e qua chiudiamo che male non è potrei fare delle scalette sì a muro così guadagniamo spazio e vi faccio vedere anche la texture che ho modificato allora sfruttiamo questi due di dark oak che non mi bastano quindi facciamo così le avevo a casa però vabbè ok solo tre me ne fai? ah sei ok non la vorrei fare particolarmente alta la torre anche perché come avete visto già abbiamo esaurito i brick che però possiamo pure rifare per l'amor del cielo ma non vorrei fare qualcosa di mastodontico ecco allora quindi tac 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 e possiamo salire e abbiamo altri 30 blocchi quindi facciamo così la lo lasciamo così perché mi piace ok quello assolutamente no al massimo qua poi potrei chiudere con degli slabettini sì volendo potrei allora facciamo il giro completo finché non mi finiscono i brick praticamente 3 2 1 e mi stanno finendo qua dobbiamo metterlo io là ho replicato involontariamente una finestra sì volendo ci potrebbe stare una finestrella lì quell'angolo lo lasciamo così ok e abbiamo finito i brick fantasmagorico ne abbiamo 17 e li mettiamo nella mano sinistra ok poi le facciamo da uno? ma sì perché no così non ci dobbiamo mettere assolutamente niente e lì è comodo non mettere il blocco ogni tanto ok ok e abbiamo finito e diciamo che non è malvagia come cosa allora mi fai mettere l'altra scaletta perfetto così magari evitiamo allora potrei salire di altri set non è male come cosa io mi ero portato altra roccia no perché non ho preso altra stone perché sono scemo allora non mi fa dormire che c'è il temporale però tanto qua siamo abbastanza protetti cheat poi esplose di malo modo sta cosa delle torce mi sta dando fastidio devo essere sincero devo vedere se si può staccare steffettino sonoro perché onestamente da fastidio allora recuperiamo ulteriori brick e sto pensando magari a qualche dettaglio quindi prendiamo anche il vetro perché comunque mi piace di più l'idea abbiamo 10 blocchetti e un pannello siamo messi molto bene allora io mi ho portato pure le scalette che però tutto sommato non sto usando allora altra stone cotta ce l'avevo e qua cosa abbiamo ah quella scura questa sì dammela pure non si può sapere mai slabettini di stone me li prendo e mi porto anche un po' di cobblestone perché sto pensando di fare un pochettino di dettaglio così qua abbiamo legna di spruce come se non ci fosse un domani che comunque come pavimento ora ci mettiamo questo allora i pannelli di vetro me li faccio qua direttamente 16 vabbè sì più che sufficienti e quelli ce li teniamo così i muretti eventualmente me li faccio lì che c'ho lo stone cutter che poi dobbiamo riportare a casa perché stiamo andando da tutt'altra parte vediamo se già di qua si vede ma quel villager è pazzo pazzo per gesù praticamente prendetemi per pazzo sì pazzo per gesù poi io mi chiedo ma com'è che mancano i villager grazie si arrampicano niente dovevo levare le scalette così si leva il vizio di fare sali e scendi tanta roba i due diamantini qua dentro ci sta e qua dobbiamo però un attimino migliorare l'illuminazione dobbiamo concepire dei palli perché qua non può essere sta casa è un po' nel mezzo non mi fa vedere una cespola oh finalmente mi fa dormire così alla luce del giorno è tutto più bello ok perché sto pensando qua sotto anziché metterci i brick visto che là è scuro fammi vedere se con questo mi fai quello scuro eccezionale sì quindi fammi mezzo stack di questi così li sostituisco secondo me sta molto meglio ci sfruttiamo però il piccone di ferro perché sto stacco sinceramente non mi piace cioè almeno parte scura e poi vabbè magari ve la facciamo diventare chiara qua mi sta rompendo un po' le scatole a parte che se mangiamo è forse pure meglio ok dicevamo tutta scura eppure meglio forse sì direi qua c'ho un po' di terra e mi faccio un caspita di passerella ok lo so avevo detto che dovevo rispettare un attimino il tutto però caspita volare ogni 4x2 ok così c'è una piccola sporgenza qua completiamo ora si può lavorare tra virgolette in sicurezza ok vabbè qua ora fixiamo le scalette non ha da problem potevo allargarla pure no vabbè poi diventa una costruzione troppo esagerata qua così sì comunque là ragazzi ci va il vetro c'è ste fence anzi leviamole eh sì ci mancava solo ci va il vetro più che altro ripeto per non fare entrare nessuno ok 1 e 1 2 e qua mettiamo invece i blocchi questi però fammi uscire deve passare più niente è una vecchia citazione a un mio vecchio video questa città è un caos purtroppo eh diciamo che mi sono abituato alla pace di minecraft ma la vita reale è un po' un delirio eh sì comunque scura ragazzi tutta la vita ok e risaliamo eh qua al volo ce la faccio a metterci due pannellini 1 e 2 ok io mi piace che mi sforzo come se fosse le fatiche di ercole allora brick ne abbiamo 34 vabbè tanto voglio salire di 7 come i gradini quindi primo strato secondo strato e già sto finendo potremmo ipotizzare anche di iniziare con lo scuro perché no? quindi fare uno strato poi con la pietra scura qua abbiamo finito vabbè ne approfittiamo per fare un'altra finestra a questo giro però la facciamo solo dall'auto che ci sta e mettimi queste ce la faccio di qua grande umile allora dobbiamo salire di altri 4 sì vi dirò che mi piace l'abbinamento così allora fammi anche questi di qua in no c'è si è questo e poi volevo un mezzo stack di muretti per la precisione questi perché mi era venuta in mente l'idea di mettere un dettaglio qua che come direbbero i grandi youtuber da tridimensionalità alla situa quando faccio così mi incazzo da solo allora saliamo di qua mi sali perché non mi sali perché non mi sale perché stronzo assolutamente sì e noi facciamo la seguente questo penso che potrebbe starci bene ora vediamo ovviamente senza terra né niente però prima finiamo lo strato dovevo farmi quelli chiari vabbè e con la buona pace dello stone cutter allora penso che 8 mi bastano e mi avanzano questo buttalo ok sì a voglia allora non volevo fare questo assolutamente quindi sostituiscimelo qua perfetto e questo me lo recuperi gentilissimo ok la finestra qua abbiamo detto no a questo giro e iniziamo invece con fare lo strato scuro che secondo me potrebbe starci e qua chiudiamo sì 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 allora quindi uno due mancano altri due strati e direi che vabbè era tutto strategico per poi risalire da qua ragazzi non fate così certo la salita mi rendo conto che è un pochettino scomoda però potrei metterci pure una pozzetta d'acqua là sotto e risolvere il problema da qua bello si vede tutto il villaggio casa nostra il panorama quindi mi manca l'ultimo strato ragazzi uno due qua finestra non ce ne facciamo e ho finito già questi blocchetti vabbè facciamo così sti cazzi tanto questa la recuperiamo facile ah mi fa la polish con questo no no e quindi ci lanciamo da qua sopra ok pocahontas va sempre detto attenzione ok beh non sta venendo male poi vabbè questa terra magari va tolta ne rendo conto ok vabbè ora la leviamo da sopra sopra oltre a farci i fantastici blocchi brick vabbè 32 ok come chiudiamo il tutto con questi slabetti di qua e poi giochiamo un attimino con fence che non ho perché le ho posate qua bravissimo claudio 64 voglia risaliamo e qua direi che è pure il caso di metterci i dispositivi a norma ok alexa ok mettiamoci 1 e 1 2 perfetto e poi forse un altro paio di torcine sparse qua e là e oggi ho problemi di equilibrio però vabbè questa scala è molto molto scomoda ok oppa allora in realtà cioè diciamo che avevamo finito però i blocchi in minecraft finiscono sempre quando vi servono ricordatevelo proprio come regola allora vogliamo fare una pedana o semplicemente mettere i slab in questa maniera quindi lasciare semplicemente lì che poi qua converrà metterci una botola onde evitare di trovare disagiati che ci vengono a trovare e io direi di sporgere con gli slab tanto ce la facciamo alla grande quindi 1 2 3 4 e lo spigolo lo lasciamo così magari c'è uno scalino al contrario che dovrei avere anche se questo gradino al contrario come sta là vabbè ora vediamo ok non volevo fare assolutamente questo salutami il terreno ok e ok perfetto così abbiamo una leggera base qua sopra e ci mettiamo per ora questo in modo provvisorio o se no sfruttiamo i muretti sfruttiamo i muretti che secondo me viene pure più carino ok sì i muretti dai però scusami a questo punto visto che abbiamo messo i muretti mettimi anche qua che dici che fastidio non riuscire a passare in mezzo a sti cosi oh ok scuri non mi piacevano onestamente allora uno due ah ecco ora facciamo il giro con i muretti in questo modo porcaccia la miseriaccia ok e poi mettiamo le fence in questo modo così e magari ci facciamo una bella tettoia perché io sto tramonto me lo voglio godere poi qua è un po' una torretta d'avvistamento abbiamo tutto il necessario uno due tre quattro non è neanche pari però vabbè perché stavo pensando potrei fare così però sta una cagata perché i muretti poi si alzano in questo modo quindi anche no blocchi d'appoggio ne abbiamo sì e facciamo uno due lo alzerei di tre sì alziamolo di tre quindi tre fence e poi ci mettiamo una copertura che mi devo studiare potrei fare anche dei campfire così ci fa la luce e da copertura ce ne vorranno un paio là c'è intanto uno zombie che farà brutta fine tra tre due e uno perfetto fanno sempre brutta fine sì ci mettiamo una bella copertura con i campfire che ne dovrò fare un botto però ne vale secondo me la pena che magari un paio li spengo quindi uno due tre quattro è un quattro per uno due tre quattro cinque quindi un cinque per quattro ne dovrò fare un botto quindi ne dovrò fare ventiquattro ventiquattro campfire e vabbè intanto mettiamo un paio di torce simboliche perfetto e andiamo a dormire mi scendi grazie gentilissimo ok così è un po' illuminato e andiamo a dormire bro ci difendi tu perfetto allora i campfire li posso fare già con il legno che ho dietro fatemi vedere assolutamente no cosa mi manca forse vuole i tronchi per i campfire allora mi servono i tronchi e i bastoncini vabbè i bastoncini non è assolutamente un problema ce li possiamo fare tranquillamente così quindi uno e uno due e li abbiamo i tronchi li dobbiamo recuperare mi sembrava uno zombie villager ti stavo dando una palettata dritta in fronte là c'è un villager che va camminando poi li perdiamo così d'amblè come si suole dire che poi è quello che sta in casa con noi quindi comunque la torre già si vede da qua fantastico comunque il pezzo di là sì comunque ragazzi la faremo tutta scura perché molto più bella mi piace il dettaglio così e sì quindi ora ci lavoriamo vediamo se ho altra terra di questa scura ma mi pare che ce l'ho giù e facciamo il tutto mi prendo i tronchi di qua quindi faccio un leggero taglio bene ragazzi rieccomi ho farmato un bel po' di legna di spruce e ho trovato solo questi in magazzino però penso che mi basteranno per sostituire il resto e allora facciamo i campfire che stavolta dovrei poter fare mi metto e ne devo fare 24 allora vabbè 12 per ora ci accontentiamo anche perché ho finito praticamente di nuovo la legna quindi a questo giro nulla poi li faccio io off camera allora fatemi salire da qua che mi sistemo al volo questo e ci vediamo appena lo sistemo perché ci capisco che è un po' noiosetto bene ragazzi purtroppo sono finiti i blocchi scuri quindi li dovrò fare materialmente cercando di nuovo questa pietra scura ma lo facciamo in un secondo momento quindi mettiamo i campfire vi faccio vedere come vorrei piazzarli almeno cerchiamo di mettere i primi perché ne ho 12 ne devo fare altri 24 materialmente allora vabbè pure se non me li piazzi dritti problemi non ce n'è ok perché praticamente così facciamo una sorta di tetto che male non è ok lo lasciamo acceso tanto questo danno non ne fa e mi fa pure un botto di luce praticamente già li ho finiti assurdo quindi proprio i conteggi dello zio claudio sono fenomenali ah no vabbè però due file le ho fatte quindi me ne servono sì altri 12 anche che avevo detto ne devo fare 24 quindi ok direi che non è male non è affatto male quello ho messo storto vabbè non ci facciamo caso l'avevo detto che l'avrei messo storto quindi ogni promessa è debito qua manca qualcosina me ne rendo conto però dai sta prendendo forma a parte qua tutta questa terra così da rivedere allora mi riprendo questi blocchi prima che li perdiamo almeno recuperiamo i brick che questi costano pure farli qua ce n'è un altro sono caduto apposta ragazzi tutto studiato e nulla ragazzuoli ci vediamo in un prossimo episodio dove andremo a ultimare appunto la torre delle meraviglie vista così fa veramente pena però la userò come miniatura dai facciamo uno scorcio strategico magari vediamo sta terra di mezzo scorcio strategico con la terra vabbè facciamo così un work in progress tac ok al prossimo video ragazzi step 1 wake up early gonna rise with the sun step 2 get some good some food in you step 3 grow hard about what you want to be step 4 f*** everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be